Gossip Uomini e Donne Gossip Uomini e Donne, Tina si separa dal marito Kiko Vinzuiden Uomini e Donne Gossip News, Tina Cipollari e Kiko Nalli si separano, svelato il motivo. Come il rapporto attuale tra cancelletto Tina Cipollari e suo marito Kiko Nalli? È questa una delle domande che si pongono i tantissimi fan della storica opinionista di Uomini e Donne, video, che a quanto pare non starebbe vivendo un periodo facile con suo marito Kiko. Come se non bastasse le ultime di gossip di queste ore rivelano che ben presto Tina e suo marito Kiko potrebbero separarsi al più presto per un giorno. Un nuovo impegno lavorativo. Il marito di Tina Cipollari sarà nel cast dellIsola dei Famosi 2018. La cifera, infatti, che il marito della Cipollari sia in trattative per prendere parte alla prossima edizione dellIsola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi che rivedremo in onda da gennaio 2018 in poi su Canale 5. . A quanto pare Kiko potrebbe essere uno degli assi portanti della tredicesima edizione del reality show Mediaset, nel caso in cui loperazione dovesse andare in porto, però, significherebbe che Kiko dovrebbe separarsi per un po' di tempo da sua moglie Tina e dai suoi tre figli. . 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